in due minuti questo lo fai anche io in direzione di Pepe ma fermate in maniera irregolare cercaccio di punizione oh fai creduto non è venuto lasciare più non può fare altro no, non smettano mamma ma che fa sempre male ma è certo ma che si è fatto non ho capito che schifo che si è fatto è come se si prolungasse questa agonia donna non è un'agonia anche all'ultimo secondo però bastava non molto per giocare e portare a casa questa partita c'è stato un secondo che si poteva non svegliare prima no vabbè metto le guagliarelle e il filo pari ma no però metto il montolivo montolivo è il gattuso mancano 30 secondi e devono fare il cambio a 30 secondi dalla fine anzi anzi sono 4 minuti che stanno passando non dico posto non dico tutto non dico non dico